Seconda vittoria per la Regione Abruzzo che così vede avvicinare il progetto di riconversione dei reparti dell'ospedale San Massimo di Penne. Dopo la sentenza del Tar di L'Aquila che nel mese di agosto espresse parere negativo all'istanza presentata dal Comune di Penne, capeggiati dal Sindaco Mario Semproni, ora in appello al Consiglio di Stato contro la classificazione da parte della Regione del Nosocomio Vestino, quale ospedale di area disagiata, ieri è arrivato il parere del Tar di Pescara che si è espresso con il medesimo risultato al ricorso presentato dai comuni dell'area vestina, tra i quali Cole Corvino, Farindola, Montebello di Bertone e Picciano. Dunque un ospedale in vita ma con meno servizi e posti letto. Si passa dai 187 del 2005 ai 74 del 2017. La Regione ha sempre operato all'interno delle normative statali, ha commentato l'assessore alla Sanità regionale Silvio Paolucci. Continueremo ad investire sulla struttura del San Massimo, dotandola di servizi utili alla collettività, partendo dai 12 milioni di euro necessari per la ristrutturazione. Non è dello stesso avviso l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne, che commentando la sentenza del Tar ha fatto sentire il proprio disappunto tramite il presidente Nicola Spoltore, annunciando che ormai la battaglia può avvenire solo per via politica e che continuerà a far sentire il proprio malcontento contro le decisioni di questa amministrazione regionale sia per le sorti del San Massimo, sia per le condizioni in cui versa l'area vestina. Già dalla manifestazione di sabato 3 febbraio a Penne, a fianco dell'associazione Abbattiamo le Barriere, contro la chiusura a partire da oggi 1 febbraio dell'Istituto Paolo VI, lasciando a casa 38 disabili maggiorenni e minorenni.